buonasera ragazzi live del mercoledì aspetto un po di connessioni pensavo di fare una mezz'oretta di q&a domande risposte in merito allenamento e dieta come al solito magari anche qualcosa sull'integrazione nel frattempo pensavo di cominciare io con qualche spunto interessante che mi ero annotato allora il discorso dello stretching pare essere piuttosto spinoso ciao renato renato ripa vediamo un po se verrò magari chiamato in causa in altri argomenti però intanto pensavo proprio di fare un lavoretto sullo stretching ciao leandro di loreto buona conclusione di leg day ciao mirko grande crow father sei pronto ad aprire il fuoco nel caso serve ciao telesmunto grande luigi radelfa ciao giovanni ciao antonio vito fra bravo telesmunto allenati fai braccio di ferro e lascia stare il bodybuilding che secondo me non è il tuo ambiente moreno rusta ciao ciao salvatore ciao nicola ciao lift with hate john pollets bene volevo aprire questa live con alcuni spunti che mi erano arrivati in merito all'allungamento muscolare le difficoltà articolari nella cosciata le difficoltà articolari anche nell'arco in panca piana e allora ciao eric ciao giovanni grande giovanni grandissimo fisico grandissimo esteta del fisico allora stretching e accosciate lo stretching allungare i muscoli consente di migliorare l'assetto in molte cose tipo l'arco in panca piana ma anche le accosciate basilari come lo stacco sumo e come gli squat che siano poi posteriore frontale non voglio fare il pignolo che si fissa quel front squat è necessario essere molto elastici anche nel back squat guglielmo meroni stavo appunto trattando l'argomento per fare le accosciate più sofisticate come lo stacco sumo è sicuramente importante essere elastici ma anche uno stacco standard già di per sé abbastanza problematico come un movimento se in più si è rigidini nella catena posteriore se in più il bacino non riesce a antevertire allora lì la parte bassa della schiena rischia di essere lesionata l'elasticità non è connessa a fare il calcio rotante di chuck norris o le spaccate come van damm si parla proprio di elasticità necessaria per mantenere fisso l'assetto durante i movimenti di discesa risalita in accosciata questo è il punto della situazione nessuno vi chiede di fare le spaccate come van damm tra due sedie finché legge il giornale però a meno movimentare carichi pesanti proteggendo l'assetto spinale questo è importante ne va della vostra salute in fin dei conti io ho avuto a che fare con soggetti che hanno avuto protusioni alla schiena non è una bella situazione non è un bello scenario marco le rose la retroversione del bacino è molto grave nel back squat ma intanto è praticamente inevitabile se uno scende in buca un minimo di retroversione inevitabile a meno che non facciate un back squat con la base spalancata il problema è quanto potete reggere questa routine quanto potete reggere questa routine poi c'è chi fa una vita di back squat sta benissimo c'è chi con front squat pensa a proteggere se stesso è molto diversa come situazione tutto lì io stesso conosco perfettamente il back squat alleno anche dei powerlifter se loro mi chiedono di allenarli nel back squat gli faccio fare quello che a mio giudizio è il miglior back squat possibile questa è la faccenda devo cercare un compromesso anche io non è che sono il talebano del front squat io conosco tutti gli esercizi scelgo per me stesso il repertorio che ritengo migliore non è che voglio imporre non è che sono l'agente smith di matix vi ficco le dita nel torace vi trasformo in miei cloni ciao moreno ciao walter ciao pre precesco di che protocolli utilizzi nei pezzi dei tocchi estetici pompaggio scuola francese o altro procesco precesco come ti chiami ho giocato anch'io al piccolo culturista a parte che non sono propriamente dotato della genetica del culturista diciamo che non è che dio mi abbia baciato in fronte per quanto riguarda i ventri muscolari e roba del genere ho giocato anch'io al piccolo culturista ho fatto le split per dritto e per rovescio ho provato la scuola francese una mia rivisitazione della scuola francese non è che ho conosciuto serge nubre non è che ho stretto la mano al tiari pastel ho fatto una scheda sullo schema francese ho fatto anche i protocolli più classici come il push pull legs le varie bro split ad alto basso volume ad alta bassa intensità attualmente rimango inchiodato col bulghiro mi ha dato i migliori risultati sia in termini di sviluppo che di forza ogni volta che ho cambiato protocollo rimpiccio olivo perdevo prestazioni si vede che ragazzi magari sono io che non capisco nulla di bodybuilding sporche peraltro non ho mai più tanto praticato io non ho mai neanche fatto una gara di bodybuilding io mi alleno per sviluppare al massimo la mia forza e la mia muscolatura per me è una sfida con i miei limiti genetici basta ormai di cartucce da sparare non ne ho più penso di aver dato fondo al mio potenziale mi alleno con un protocollo che penso non abbia uguali come durezza e consistenza ma più di così sicuramente allenarsi in split routine con questi protocolli così morbidi così valiegati è un'esperienza molto più magari gratificante per il pump magari anche più così ma dire si divertente gioiosa endorfinica adrenalinica dopaminica però io non sono attratto dal pump non sono attratto da queste cose qua a me piace la pulizia tecnica la prestazione sto divagando scusate aleandro 3 di messaggi grazie reandro grazie mille la mia divulgazione grazie mille si cerco di divulgare meglio che posso aleandro cerco di essere il supporto che avrei voluto avere io da ragazzo squad snatch si può essere anatomicamente non predisposti beh griseum spero che non sia il tuo caso comunque di solito no se uno ci lavora ci riesce lo snatch squat snatch squat gambe in strappo no io penso che nessuno abbia una preclusione genetica per lo snatch squat griseum secondo me se ci lavori ci arrivi barbara next to beater stacco sumo ma qua mi spariscono i messaggi ogni cacchio di volta è incredibile qua youtube dei messaggi che appaiono scompaiono stacco sumo inerenti capitato di avere porta pazienza mi spariscono i messaggi il timing dei nutrienti è importante in alcuni casi sì altro che nicola beltrami pensi che il front squat sia più adatto a soggetti con iperlordosi e penso che il front squat sia adatto a tutti basta avere un minimo di buona volontà e di sopportazione del dolore e lo si impara e lo si consolida valter spirito rimandami il messaggio che l'ho perso porta pazienza non è colpa mia io non c'entro niente caramine conte cosa ne penso del push press non è nel mio radar o fai lo slancio o fai lento il push press per me non esiste nulla contro il push press io non lo faccio roberto torelli mi si è gonfiato il ginocchio dopo il crossfit vabbè c'è chi si gonfia il ginocchio chi altro comunque nulla contro il crossfit sono attività ad alto impatto ragazzi dovete cercarvi un bravo coach andare in un box abbastanza qualificato gino buonasera cosa ne pensi del power building beh io pratico diciamo power building ne penso bene penso che power building sia una rivoluzione positiva nel mondo dei pesi penso che il power building sia un ottimo connubio tra forza ed estetica io penso che power building vada oltre il power lifting che permette un assortimento migliore di esercizi più ampio gli esercizi che costruisca la muscolatura in modo molto più completo e penso che power building vada anche oltre body building che crea atleti che hanno caratteristiche funzionali molto più avanzate dei body builder che fanno appunto body building quindi fanno uno show uno spettacolo come farebbero degli esemplari di una mostra canina con tutto il rispetto per i body builder non voglio assolutamente entrare in polemica non incazzatevi però i giudici in gara valutano l'estetica il power building invece acquisisce il power builder acquisisce schemi motori più sofisticati più trasferibili nel mondo reale io ho visto body builder giganteschi striati svenati che fanno lo stacco al multi power con venti per parte per loro va benissimo così perché tanto loro crescono anche così perché i soliti discorsi che non voglio tirare fuori io penso che power building sia un ottimo connubio che va che va oltre il body building e oltre il power lifting non mi piace il nome power building mi sembra un accrocchio un po così magari più avanti si cercherà un nome migliore al momento quello che viene definito power building secondo me è un'ottima risorsa un'ottima risorsa per tutti antonio costa esiste un libro che parli del metodo bulgaro ma io sono partito con l'opera di adogruzza poi da lì sono risalito a spirale a tutti quanti gli argomenti connessi per me il libro a prepista fu il libro di gruzza non ne parlo in modo approfondito mi ha dato giusto due tre indizi io mi sono attaccato come un mastino e ho spolpato tutto l'argomento per conto mio un simil bulgaro per migliorare sul range 3 no beh se togli le singole al bulgaro ma non è neanche un surrogato se fai il bulgaro a quintuple non esiste se vado in bici usando lo skateboard è ancora ciclismo no almeno se il bulgaro si impernia sulle singole posso capire abbassare un po il volume posso capire ammorbidirlo un attimo ma farlo a quintuple non esiste è proprio una bestemmia un'aberrazione walter spirito spinta con i talloni sullo squat mi spariscono i messaggi se è un bestemmio guarda non scherzo spinta con i talloni sullo squat carichi grandi non riesco a spingere forte con i talloni poi consiglio fai le coaching io tramite le coaching riesco a monitorare le tecniche di esecuzione e dare dei responsi faccio dei check tra le altre cose che riesco a fare in coaching sono proprio i check out tecnici questi check out tecnici mi consentono di dare delle correzioni anche a distanza di impostare molto bene l'atleta oggi ho allenato un ragazzo della svizzera giovanni che saluto si è fatto con me due ore di fila era uno di quelli che seguo tuttora in coaching allenarlo dal vivo è stata una sessione liscia come l'olio era già tutto tutto impostato proprio tanta roba ha fatto un ottimo lavoro quindi sfruttando oggi il mondo virtuale del web si possono inviare ricevere dati anche video e fare dei check out a distanza poi al lato pratico in live in palestra io ho avuto ottimi feedback ottimi riscontri di allievi che hanno fatto un percorso molto importante e hanno acquisito capacità coordinative di forza molto importanti il libro migliore che parla di power building non lo so come dire il libro migliore che parla di arti marziali miste uno doveva studiare secondo me a parte il grappling a parte lo di esercizi voi avrete i vostri io la mia miscela personale il bello del power building è che è una specie di power lifting implementato e personalizzato io penso che sia una delle sfide più affascinanti degli ultimi tempi il power building vabbè a parte il nome che non mi piace però il concetto mi piace ecco avresti continuato con il power factor se non avessi fatto il pt non lo so era molto efficace nelle arti marziali più che altro l'avrei continuato se avessi continuato a fare arti marziali io mi sono ritirato dai combattimenti a 30 anni mi sono sistemato il naso e dai 30 in poi ho fatto soltanto personal trainer fitness bodybuilding cioè bodybuilding non ho mai fatto veramente bodybuilding comunque si mi sono dedicato più che altro al mondo dei pesi ecco ho insegnato arti marziali ormai ho preso il brevetto ma ero un insegnante di arti marziali le facevo come un di più rispetto al mio core business ecco il power factor è stata una parentesi che era inerente al mio percorso di marzialista quando i pesi mi hanno tradito nel 2003 io li ho abbandonati per dieci anni facendo arti marziali e poi dopo gli ho ripresi per lavoro vimbra ciao marco opinione personale contropatia femoro rotulea la contropatia femoro rotulea quindi le cartilaggini che ti partono in buona sostanza problemi al menisco eccetera sì un mio familiare ha avuto questa contropatia l'esercizio prescritto dal suo meglio la prognosi prescritta dal fisioterapista prevedeva il rinforzo del qf quadricipite femorale la mia modesta opinione nelle vesti di tecnico post riabilitazione riguarda il front squat io penso che il front squat sia una buona accosciata per ultimare il processo di recupero rinforzo muscolare in questi soggetti poi anche lì dipende se hanno avuto un'operazione importante se hanno avuto un'artroscopia se hanno avuto una protesi qua ragazzi si va in campo medico io non ho nessuna voglia di beccarmi sul collo un avvocato denunce letterine magistrati che mi perseguitano la mia opinione è che per rinforzare i quadricipiti siano importanti le accosciate di un certo tipo ma questo è tutto un lavoro che si fa dopo che il medico ha fatto una diagnosi che il medico ha fatto una prognosi che lo specialista di fisioterapia ha fatto il recupero post intervento come ultimo anello di questa catena infinita arriva il pt che dà la botta finale rinforzando il muscolo in questione ma ormai il paziente è praticamente sano deve solo ultimare gli ultimi ritocchi ecco e basta 16 minuti allora Ciro Cappiello buonasera Marco complimenti per la qualità del tuo canale grazie Ciro mi ha messo nome e cognome non voglio ok steatosi epatica fegato grasso non so da cosa dipenda da dove vengo io c'è una causa ben precisa 35 kg di sovrappeso poi mi fanno pensare che ho fatto centro quello che ti consiglio io di fare un percorso che rimuova prima la causa primaria di questo caso questa situazione poi sarò felicissimo di aiutarti se potrò farlo ma penso che il tuo problema abbia radici abbastanza profonde penso che tu debba radicarlo in origine non sono io purtroppo la persona deputata a fare questo ci sono specialisti molto più qualificati di me per farlo questo è tutto quello che posso dirti grazie comunque per la tua esperienza che hai condiviso Marco le rose da 1.5 bodyweight pain punk piano il metodo bulgaro per me si è rivelato sempre efficace più l'ho estremizzato più è stato utile ma è che si arriva a un punto avanzatissimo in cui il bulgaro viene sostituito da qualcos'altro a meno che non esista un numero intero primo più basso di uno non ci si può allenare con zero colpi con zero ripetizioni no il bulgaro si è sempre rivelato l'arma suprema nel mio caso ho provato a cambiare ho provato a innestare volume innestare serie di compendio splittare a volumizzare mi è sempre rimbalzato indietro quindi posso dirvi che il bulgaro funziona tanto più viene presa la lettera io quando volevo fare i miei record di panca piana ho estremizzato il bulgaro e ha funzionato quando mi sono messo in testa di fare split volumizzare accorpare pezzi di programma ho visto un calo sensibile in tutti gli esercizi principali lo dico sinceramente io non sono un bulgaro non difendo nessuno della nazionale bulgara non vendo libri sul bulgaro io però mi alleno con quello stile lì e sto continuando a farlo è lo stile di allenamento che mi consente i migliori risultati e soprattutto la stabilità migliore nel tenerli effestione senti marco mi alleno con un fisioterapista personal trainer solo che per motivi economici posso fare due volte a settimana va bene metto gli economici vado due volte a settimana va bene effestione il punto è quello che fai tu senza di lui io ho clienti che fanno con me il minimo indispensabile che però poi per conto loro si danno da fare in palestra però io li imposto bene cioè io li metto in condizione di essere efficaci anche da soli vengono da me per dei check più un cliente si applica e più può sopravvivere senza personal trainer poi ci sono persone che hanno magari dei bisogni psicologici più stringenti che hanno sempre costantemente bisogno del pt in ogni sessione dipende dalle caratteristiche di ciascuno secondo me se il tuo pt ti rende abbastanza indipendente possono bastare anche due sessioni poi dipende comunque dal tuo grado di preparazione di motivazione di passione per quello che fai conoscenza anche delle tecniche dell'allenamento se la pensi dello Shmolov Junior per la panca piana Life with 8 io la penso un po' come un tecnico canadese che diceva che i russi tendono a elargire programmi non troppo sinceri diciamo quindi non ho mai approfondito i programmi russi ho fatto qualcosa inerente allo shako ma mi rendevo presto conto che c'era qualcos'altro dietro era una divulgazione poco cristallina e penso che molti programmi siano stati concepiti per depistare la concorrenza è una mia opinione personale che ho maturato in seguito a dei riscontri con altri autori non sto accusando nessuno di controspionaggio però vi chiedo anche una cosa secondo voi che interessi a una nazione dominante in uno sport a divulgare apertamente e gratuitamente i programmi migliori che possiede? che interesse ha nel fare questo mi chiedo io allora festione prego e festione vtfest caricherai le live io di sotto le live le tengo le lascio poi non so se youtube rispondo a vtf fest io di sotto le live le lascio poi se comporta da conseguenze da parte di youtube le tolgo perché le mie live sono in pari di un'ora non so se un'ora sia un tempo eccessivo o meno le live di sotto le lascio poi se devo togliere le tolgo devo un po' capire youtube come intende regolarsi in tal senso parlare mai dei soggetti clavicolari trapezoidali? non li conosce nessuno ma non c'è molto da dire sono persone che hanno la classica forma scusate la supposta e le persone che hanno le spalle più ampie aperte sono sempre lì l'iprist era un classico trapezoidale sean roden è sicuramente un clavicolare ma anche lì sono sempre le solite questioni minimali che riguardano il vezzo estetico del giudicare una persona in base a delle caratteristiche immodificabili immutabili se non c'è soluzione non c'è problema se sei nato trapezoidale muori così se sei nato clavicolare idem non vedo il senso di stare lì col microscopio e distinguere queste caratteristiche francamente irrilevanti irrilevanti nel senso che non possono essere cambiate invece di accettare un fisico per quello che è e svilupparlo per quello che va sviluppato l'iprist è un soggetto trapezoidale ha sviluppato un fisico ignorando serenemente questa categoria e raccogliendo ottimi frutti sean roden è sicuramente un tizio clavicolare e anche lui neanche magari sa di esserlo in relazione ad altri e ha vinto un mistero olimpia queste cose si valutano a posteriori non a priori fate il vostro percorso sviluppate il vostro fisico e dopo potrete dire ah si toh guarda era un clavicolare quello lì è più piccolo io sono più basta tutto lì come quelli che mi chiedono il diametro del polso oddio dal polso piccolo il polso piccolo cosa vuoi fare? te lo ingrandisci? cosa metti i braccialetti? che senso ha? le tue inserzioni tendine sono sempre quelle finché morirai tanto vale che lo accetti e lavori come tutti Barbarian Clarence Kennedy ha visto questo pesista? si Clarence Kennedy è famoso non gareggia a quanto pare non lo vogliono gareggiare ci sarà motivo il culturismo il culturismo col bulgaro c'entra poco se no si chiamerebbe pesistica o power building o power lifting Rick Biss il rugby e le accosciate ho fatto un video Sam say ancora che tu sia clavicolare o trapezoidale la panca piana la devi fare come Dio comanda non preoccuparti se sei forte o debole se quell'altro è più portato o meno portato ma io nel lento avanti sono ma nella panca invece impara ad allenarti e fregatene del clavicolare del trapezoidale la panca piana si fa sempre lo stesso modo che tu sia clavicolare o trapezoidale se poi tu hai il torace che è un fusto di birra e le braccine da fuoco melico è chiaro che sarai forte in panca se hai le spalle molto larghe e i precipiti molto forti sarai forte in lento avanti c'è sempre lì uno impara ad allenarti due tira le somme ma alla fine conosci Alan Thrall mai sentito nominare Alfonso Amato quel bulgaro ha guadagnato 10 kg su dip trazioni e squat e 5 kg su military press massa nulla che sia strano sei più forte ma non sei più grosso ma vorrebbe vedere un po' se ti sei pesato ma francamente non intendo approfondire comunque posso capire che magari per chi inizia a fare massimali ci sia un incremento di potenza dovuto al miglior reclutamento muscolare sono tutte cose che come ripeto si valtono in retrospettiva non in anticipo 25 minuti trascorsi in effetti il discorso tra massa e forza è interessante all'inizio può capitare ragazzi quando fate un training serio può capitare che voi alzate di più perché sapete muovervi meglio perché reclutate meglio i vostri muscoli già esistenti ma poi dopo la festa finisce subito prendete giusto quei 5 kg come diceva l'utente qua ma poi dopo i cavalli aumentano il motore aumenta la cilindrata non è che diventate fortissimi rimanendo degli scheletri è impossibile per un altro poi forza e massa sono praticamente la stessa cosa Michele Grassivaro ciao Marco ho già visto il video interviste di Luigi Colbachs con Filippo Rispoli mi hanno mandato 3-4 persone non sono durato due minuti a vederlo nulla per carità di polemico ma non me l'hanno comunque segnalato se non l'ho mica visto se ricordo bene si parlava del doping cosa doparsi responsabilmente Sam6 cosa ne pensi dell'ex squat una macchina tipo slittino che non ho mai usato Ruggero Mansi al commentare vabbè dopo leggo allora ancora sul pompaggio ragazzi il pompaggio è una cosa che non mi è mai interessata l'ho praticata ma se avesse funzionato su di me perlomeno avrei insistito io non vado in palestra per perdere tempo vado in palestra per avere in cambio qualcosa io faccio ciò che mi dà di ritorno qualcosa se vado in palestra ad allenarmi non mi basta pompare i muscoli e poi tornare a casa sgonfio come prima avrei interesse andare in palestra per seminare qualcosa che poi raccolgo Brambilla ciao Marco due anni fa mi legionai nervo ulnare di solito il nervo ulnare lo lo si lesiona nel pugilato quando si allinea male il gomito con il polso per colpire il nervo ulnare è questo qui di solito si lesiona con la box Dario io non distingo l'incremento di massa dall'incremento di forza per me sono la stessa identica cosa poi le supercazzo le sull'ipertrofia selettiva sulla massa senza forza a me non interessano io non mi occupo di massa muscolare non mi occupo di ipertrofia poi trovo anche ridicola l'idea di andare in palestra per gonfiarsi i muscoli restando debole tanto vale farsi le protesi in silicone se a voi interesse essere grossi e basta fatevi il sintol lasciate stare i pesi cioè proprio mi sembra assurdo che uno vada a cercare in palestra il pump la massa senza forza come avere una Ferrari con il motore di una 500 io non penso neanche che esistano queste cose io penso che ci sia comunque una correlazione tra massa e forza se no fate come Rich Piana vi imbottite di cinto il protesi i tatuaggi in giro così come però non è il mio stile it is not my cup of tea non mi interessa a me interessano le prestazioni e la conseguente ipertrofia così come non credo che esistano persone fortissime e secchissime io penso che se Roberto Benigni conoscesse tutti i segreti della panca piana con l'esecuzione perfetta finché ha quel fisico lì non fa più di tanto penso che farà forse 50 kg di panca Benigni poi hai voglia a raccontarmi che impara l'arco le scapole ma forza e massa in un natural vanno sempre di pari passo poi se arriva il culturista bombato che si fa di sintomo lì non c'è più neanche un parametro perché il sintomo non è neanche muscolo comunque i bodybuilder più grossi spessero non anche i più forti io sono cresciuto con Ronnie Coleman con Kevin Levroni Kevin Levroni è uno di quelli che faceva il lento dietro con 180 kg ma lì che cazzo parliamo massa e forza dove? Ronnie Coleman faceva gli stacchi con gli anfibi militari tirava su 380 per 2 poi invece si parla di bombati quindi non è che parla del natural che fa power building scusate mi sto un po' lasciando andare mi sa che faccio altri 10 minuti e poi basta Vito Fra consiglio per rinforzo bicipiti femorali esercizi mirati o miglioreranno direttamente quei fondamentali i bicipiti femorali possono essere allenati in due modi appunto i flessori della gamba sulla coscia si possono allenare con il leg curl seduto sdraiato con il famoso stacco rumeno che pare che sia la limousine degli esercizi per i femorali o semplicemente lavorare in sinergia con le accosciate come lo stacco sumo lo stacco standard eccetera la mia opinione è che se tu hai bisogno di un lavoro mirato dovuto a un recupero magari di uno stiramento muscolare per me ti bastano e avanzano i leg curl della macchina questa è la mia opinione se tu hai avuto una lesione muscolare e devi bagnare di sangue la zona cercare di avvicinare le due sponde dello strappo per me basta il leg curl però qua si va in territorio medico poi se vuoi sapere come la vedo io io i femorali le alleno di riflesso con il transfer che viene delle accosciate principali moreno rusta quindi col power factor niente ipertrofia ma molto scarsa range di movimento molto scarso coinvolgimento miofebbrillare molto limitato ipertrofia molto scarsa si bleggi metodo a contrasto per forza esplosiva non particolarmente no non è particolarmente indicato una sfida di punk tra me e Michael Earn è come se sfidassi Rocco Sifreddi a fare spadaccino con l'uccello di che cazzo parliamo Michael Earn è un mostro Titan arrivo io Marco Pitivere Giovanni Pezzato grande Giovanni ottimo lavoro hai dei consigli per gli studenti di scienze motorie Dak Docafu consiglio agli studenti di scienze motorie cercate di procurarvi il materiale migliore su cui studiare quindi anatomia sullo Sherwood fisiologia su libri altrettanto blasonati e cercate di seguire le lezioni per il piacere di seguirle senza essere ossessionate degli appunti scrivere eccetera godetevi le slide godetevi l'esposizione e cercate di ascoltare il professore studiate poi per conto vostro a testa bassa sui libri ma godetevi le lezioni spesso i professori di scienze motorie hanno anche esperienze interessanti mi ricordo che a Verona il mio professore preferito era un certo Franco Larocca un luminare sembrava Shanzung dei primi Mortal Kombat pedagogia speciale più volte gli hanno rimandato il pensionamento perché era un professore molto ben voluto e soprattutto molto efficace nel suo lavoro molto bravo nel suo lavoro Daniel Girod se aumento di peso la forza aumenta però il traguardo alzare una volta e mezzo il proprio peso corporeo va sempre più distante Daniel Girod deve cercare di diventare più forte possibile e poi aggiustare un po' il peso ma che vero non tutti arrivano a fare una volta e mezzo sono sempre quelle supercazzole di Macrobert che dice tu devi fare 135 di punk quello che hanno ma tu li fai non ti risponde sono sempre queste regole anche a volte oppressive che ti danno questi vecchi libri per fortuna ormai caduti nel dimenticato libri che non valgono la carta su cui sono scritti in cui se non fai due eventi di stacco non sei un vero uomo ma sei impazzito con i tuoi metodi poi Macrobert con due sessioni a settimana con due serie di stacco alla settimana allora fate quello che potete allenatevi col miglior metodo possibile le somme le tirate alla fine potete avere giustamente degli obiettivi ma dovete capire in cosa siete forti io ero ossessionato dal fare 100 kg di military press ci sono arrivato e sono contento poi ho fatto anche di più ma ognuno deve sentire proprio l'esercizio darsi dei parametri non aspettare che arrivi uno a dirgli i numeri canonizzati poi danno si sa bene chi ispiratevi ai campioni ispiratevi alle tabelle Marco Ripà ha fatto un record di strict curl ispirandosi alle tabelle mi pare Wilkes ma ha avuto lui l'obiettivo non ha aspettato che arrivasse uno a imboccarlo allenatevi per voi stessi e assecondate la vostra struttura ci sono persone che sono magari fortissime in un'alzata che ha pochi interessi magari tutti in palestra fanno petto e bicipiti arriva uno che ha un talento particolare nello squat può fare nello squat il suo cavallo di battaglia magari andando oltre ai numeri dati da Mac Robert quindi cercate di ispirarvi alle vostre stesse caratteristiche portarle al massimo ecco ciao Lucio MV Maker MV Maker un conto è allenare il sistema nervoso e quindi non aumenti di muscolo ma solo di forza un altro conto è stimolare la muscolatura con il 75% quindi il pompaggio MV Maker questa è una domanda che posso capire non ce l'ho con te qualche anno fa si pensava che i range di lavoro fossero comparti stagni quindi avevi singole forza ipertrofia cioè tu con le singole diventavi fortissimo ma restavi pippo franco cioè tu praticamente alzavi 200 di panca ma restavi sempre identico cioè tu prendi pippo franco gli fai fare le singole arrivi a fare 200 di panca rimane esattamente uguale fisicamente poi nel range 2.5 tu facevi forza e quindi molto forte magari sulle 2.5 ma ipertrofia non se ne vedeva con il range 6.10 tu diventavi enorme però la forza non c'era tanto quindi avevi questo scenario di secchi fortissimi e di pompati scadenti quindi tutte le supercazzole sui 75% che danno l'ipertrofia e il 100% che dà la forza senza la massa sono appunto supercazzole esiste lo sviluppo neuromuscolare esiste lo sviluppo muscolare e lo sviluppo della forza muscolare tutto il resto sono robetta ma anche la legge di Hahnemann io ne ho discusso anche con Marco Ripà dire che con solo il 75% si reclutano tutte le fibre muscolari coinvolte in quel gesto mi porta a chiedermi quando io faccio il 100% il carico di differenza con cosa lo alzo? con cosa lo alzo? cioè io praticamente uso tutte le fibre al 75% del carico io quando alzo 100% che arriva a tirarmi su quel carico di differenza cioè sono sempre gli stessi discorsi del laboratorio siamo sempre lì poi non voglio fare bastiano contrario quello che magari va contro gli studi scientifici tanto quando c'è lo studio scientifico ha sempre ragione lui quindi io non discuto neanche non sto neanche lì a far polemica però secondo me c'è dell'altro oltre a questo ecco prendo lo spunto comunque dal tuo intervento è un Vumaker molto interessante allora parlando di discrepanze di forza e massa io posso ammettere che un principiante che si sgranchisce un attimo fa un paio di mesi di tecnica e impara a spingere correttamente può prendere carico senza ingrossare ma quello è un caso limite è una cosa che riguarda i principianti cioè nell'arco di un'intera carriera di allenamento di un atleta sono i primi mesi su dieci anni magari capito quindi la finestra è molto ridotta non penso che faccia testo Giovanni Abbazia un mio amico alto 1,75 pesa 65 ma è buono per lui e tiene l'azione ah questo è interessante Eric Spoto quando ha infranto il record mondiale di Panca sollevando 327 chili Raw ha vinto 5500 dollari penso che sia quello che prende Ronaldo se vende le sue scarpe da calcetto quindi anche lì talvolta sappiate che dovete allenarvi più per voi stessi che per il denaro ecco Eric Spoto mi ricordo benissimo la sua mirabolante Panca Piana 327 con presa abbastanza corta vinse un mega segnone gigante con scritto 5500 USD io chiedo scusa ragazzi ma purtroppo i messaggi appaiono e scompaiono vabbè ma non intendo di scusa Sam6 non non so 40 di Panca dopo 4 60 con la stessa ma con il se con il forse non si costruisce nulla tantomeno un'argomentazione Pete Rubbish si l'ho già sentito ma non ho mai approfondito più di tanto gli americani Brambilla cosa ne pensi allora Giuseppe Crisci cosa ne pensi di iniziare un percorso di forza con una percentuale di massa molto alta intanto devi cominciare a mettere su tessuto muscolare così alzi il metabolismo dopo magari pensi a fare diete particolarmente stretta intanto dai un'aggiustata alla dieta togli magari l'alcol e i dolci ma metti su tessuto muscolare metti su massa muscolare aumenta la fornace metabolica poi da lì vedi come cambia la musica c'è qua ormai ragazzi le chat sono una roba i messaggi scompaiono chiedo scusa ah si Bleggi si ogni tanto una risalta facciamocela già è duro allenarsi non può neanche scherzare che arrivano apprezzo molto Bleggi grazie Ruggero Mansi sei in una brutta situazione non sono un medico non sono Doctor House non sono un guaritore non accetto ingaggi da paramedico porto pazienza Elephant Frank come gestisci i carboidrati allenandoti con il metodo bulgaro non li gestisco li mangio a sazietà e se vedo che esco con i parametri estetici ma di solito io li brucio molto bene i carboidrati con il mio regime non li accumulo come grasso tendo a bruciarli tutti tendo a sfruttarli molto bene insomma ecco no non funziona se tocco lo schermo non riappaiono i messaggi grazie del consiglio ma non funziona vanno e vengono perché la connessione si vede che è stracolata a quest'ora probabilmente le linee sono intasate quindi cosa volete siamo in Italia la fibra ottica è quello che è non è culpa mia ovviamente eh sì allora Giovanni Pezzato se ti costringono a tenere una sola trazione quale tieni prona supina martello ma io altrimenti mi sono stabilizzato sulle supine Fabrizzani mi riporta il record di stacco ma francamente non mi occupo di powerlifting poi a me sinceramente sta mania dello stacco mi è sempre un po' dato fastidio perché è un'alzata che ha il bilanciero ad altezza standard non c'è un parallele da infrangere una persona di bassa statura ha già enormi vantaggi quindi che lo slancio cosa mai interessante non lo stacco sorvegliato speciale hai visto Joker sì ho visto Joker con Joker in Phoenix molto bello come film secondo me non è all'altezza del capolavoro con Heath Ledger che è The Dark Knight però Joker con Joker in Phoenix è un ottimo film la mia scena preferita in assoluto è quella della metropolitana è la scena madre secondo me è la scena chiave scusate del film quella che dà il cambio di ritmo al film una delle scene che mi ha più colpito in assoluto proprio per per il repentino accadere degli eventi io ero convinto che quando l'aggressore era stato colpito dal proiettile pensavo che l'avesse sparata un'altra persona come a volte capita nel film che c'è il colpo a sorpresa e invece era lo stesso Joker ad agire Joker molto bello il film e la scena della metropolitana penso che sia la mia preferita in assoluto metodo kazako cosa ne pensi ho letto qualcosa sul libro di Gruzza ma non l'ho mai approfondito mi sembra una rivisitazione un po' bizzarra del bulgaro ma non mi permetto neanche di valutarlo di giudicarlo perché non l'ho mai approfondito ragazzi io se non becco tutti i messaggi domando scusa se non riesco a rispondere a tutti ma le schermatiche vanno e vengono magari comincio a leggere un messaggio sparisce e arriva il seguente non sto trascurando nessuno e portate pazienza se non becco tutte le domande i miei messaggi vanno e vengono ciao Umberto Fuego un esempio del mio sono cose che vanno personalizzate non posso riportarti la mia scheda con quello che devi fare tu magari non c'entra nulla non posso rischiare voi potreste anche hackerarmi il diario di allenamento tirarvelo giù tutto ma non ci capireste nulla in primis e poi non sarebbe applicabile il vostro contesto non c'è una scheda standard per tutti i livelli bisogna cominciare con calma e poi aggiungere pezzo dopo pezzo questa è la storia non hai paura il bicipite facendo le trazioni supine massimali no io ho i tricipiti io ho i bicipiti piuttosto delicati e non ho problemi con le trazioni supine quindi pur non essendo particolarmente dotato ho effettuato una trazione supina con 60 kg in cintura che è oltre la metà del mio peso corporeo mi hanno avuto neanche un fastidio John Polez Marco nello squat mi confermi che il posizionamento dei piedi è molto soggettivo stance tendenzialmente larga ma dipende da che squat nel front squat non c'è nulla di soggettivo a me piace il front squat perché è un movimento che è poco customizzabile o lo fai come Dio comanda o non ti viene quindi l'appoggio è uno sulle clavicole non c'è il low bar high bar la stance è una corta non c'è wide stance narrow stance se poi si parla di back squat si può discutere tre ore sulla customizzazione delle alzate ciao Gianni grande Gianni Gianni Corti è uno che di back squat se ne intende parecchio e lo sta a customizzare molto bene Mvmaker cosa ne pensi della monofrequenza applicata alla forza non ne penso nulla perché è uno scenario che penso non esista salvo che in qualche programma strampalato luce in utenzo dato che è un'età non sarebbe il caso di abbandonare tutti questi minchia grazie della fiducia boh se sarà il caso abbandonerò quando il destino vorrà deporro le armi nel frattempo mi alleno come posso mi becco anche del vecchio l'ottame così a buffo no scherzo The Elephant Frank su quale libro hai studiato la corsa a scienze motorie no su nessun libro erano corsi pratici erano corsi sul campo anzi in pista di atletica e la tecnica di corso mi venne insegnata dalla professoressa milanese con delle slide con dei modelli di fotogrammi di atleti che correvano questa roba della chat è insostenibile non ho mai visto niente del genere mi sa che anche loro ormai sono le 10.40 10.20 ci sarà tutta Italia connessa al web MV Maker secondo me dovresti doppiare dei film e la voce davvero invidiabile oh ragazzi se mi chiamano volentieri mi ero anche documentato ma pare che serva fare 800 corsi anche lì dei coglioni comunque grazie MV Maker Fabio Zani record punk si può essere forti non muscolosi ma anche qua Fabri Zani dipende dal gear mica gear queste cose qua le leve corporee eccetera a me i powerlifter cominciano anche a dare un po' di fastidio perché sono sempre lì a marcare questo punto del rapporto peso potenza e la panca piana poi dipende dall'arco che fai si usi la maglia da panca le tue leve corporee anche il peso corporee in panca piana arriva uno che magari neanche allena le gambe che sono un contenitore muscolare molto alto e quindi rosicchia punti Wilkes in sto modo qua cioè è veramente uno sport che mi sta stancando piuttosto power building mi spiace non ho niente contro il powerlifting in sé però alcuni powerlifter sono veramente sfiancanti è sempre la menata del coefficiente Wilkes e la tabella schwarza il rapporto peso potenza ma anche lì in panca piana uno se neanche fa le gambe è molto leggero le gambe le cosce intendo le cosce sono molto muscolose poi se uno tira un super arco ha un grande vantaggio poi se uscirà maglie da panca è ancora peggio anzi è ancora meglio per la spinta quindi sono sempre queste questioni un po' pidocchiose che sono anche stanco di affrontare anche nello stacco da terra io ho visto Marco Ripà fare 240 kg di stacco standard pesandone mi pare 80 ma lui stesso dice che ha usato una forma orribile ha la schiena a pezzi Marco Ripà ha fatto un'impresa sovrumana ma quella non è forza che a me interessa è stato spinto a cinghiata a fare uno stacco da due quintali e mezzo e si è sfondato la schiena a me dispiace per lui ma questo è il lato brutto del powerlifting uno stacco standard con le gambe quasi rigide la schiena AC aveva anche la cintura ma gli è servita anche a poco per carità ha fatto un'impresa sovrumana ma non è forza fisica quella lì è proprio forza di abnegazione non è un gesto che a me è impressione mi dispiace per lui perché so cosa vuol dire avere cattivi maestri in compenso Marco Ripà è un panchista formidabile lì la tecnica era molto migliore poi ragazzi sono le mie opinioni personali non mi permette di giudicare la carriera di un atleta come Marco Ripà mi limito a constatarne il triste epilogo dovuto a infortuni molto gravi corsi di life changer non sapevo che i PT facessero anche questo ma forse sono rimasto un po' indietro life changer no M3 mister 123 cast non conosco il life changing che fanno queste persone non so neanche di cosa stai parlando ho visto l'ultimo video di Luigi Colbach e Filippo Rispoli ho provato a guardarlo non sono durato molto non è il mio genere di video però poi non mi occupo neanche di doping ragazzi Massimale Military Francesco al momento sono più concentrato sulla panca Andre And che ne pensi di Giovanni Cianti ho un suo libro della Fabra Editori disegni molto belli in acquerello mi pare ma Giovanni Cianti disegnava anche i fumetti è un artista Giovanni Cianti il pioniere uno dei pionieri della Evo Diet se non il pioniere della Evo Diet di Elephant Frank videogame preferito attualmente Splinter Cell Blacklist sono rimasto un po' indietro ma d'altronde Splinter Cell nuovi non sono più usciti io sono ancora fermo a Blacklist poi per i picchiaduro io sono un purista mi piace molto Virtua Fighter al momento purtroppo la saga è ferma al 5 tutta la roba che mi piace è rimasta ferma da un po' quindi come gioco action Splinter Cell come picchiaduro Virgo Fighter come sparatutto giocavo a Gears of War ma poi ho lasciato perdere giochi di auto giocavo a Burnout 3 Takedown che era molto bello poi c'era anche il Revenge che era molto bello ma io ormai sono un retro gamer sono un fossile ragazzi domando scusa ma qua le chat vanno e vengono Claudio Guiu ciao Marco qualche consiglio per una persona che inizia a fare palestra per perdere peso metti su muscoli impara a muoverti sotto carico diventa atleta poi il peso lo perdi facile basta che imposti una dieta che sia un minimo ragionevole ce la fai Mr123Cast non mi interessa il project penso che non ho niente contro le pubblicazioni che hanno fatto ma non è il mio penso che sia qualcosa destinato a un pubblico di vasta utenza e per lo più di principianti Metal Gear Solid John Pollets no io sono dalla parte di Sam Fisher io mi sono schiarato ben presto della parte di Sam Fisher il signor Snake non raccoglie le mie simpatie ultimi cinque minuti poi chiudo la live allora Tom Clancy è morto lo so scrittore Tom Clancy anzi no scusa non sapevo che fosse morto Tom Clancy domando scusa mi spiace che sia morto Tom Clancy immagino che quando cade l'autore poi anche la saga deperisca comunque i videogiochi i ragazzi vanno presi a piccole dosi ovviamente non gioco più non acquisto più videogame non acquisto più console sono rimasto fermo ma l'Xbox 360 preferisco non rischiare di diventare un Ikiko Mori non ho mai avuto neanche l'Xbox Live ho sempre giocato per conto mio mezz'oretta ogni tanto così ma non ho mai avuto la febbre del gamer diciamo allora ciao Maurizio Strong grazie dell'attenzione onorato grazie ritieni che gli esercizi per la schiena coinvolgono molto più gli avambracci dei bicipiti ma nel mio caso no io ho avambracci e presa molto forti ma no particolarmente svantaggi sei sposato no sono celibe sono libero ho rischiato un paio di volte di sposarmi buonasera Marco moreno rusta moreno rusta che ne pensi del fisico di Yuri Keki ma penso che parli da solo fisico statuario che libri consiglio per imparare a strutturare programmi di forza diversi libri che comunque ho filtrato io quindi ti consiglio direttamente le coaching le consulenze è molto prima così Giovanni Abbazia ha praticato arti marziali che se ne pensi di Bruce Lee ho fatto un video su Bruce Lee sono stato aggredito da un sacco di fan deliranti un video che mi ha procurato più problemi che altro su Bruce Lee ho semplicemente detto che era un attore che era una persona che si dedicava a fare i film che non ha combattuto in circuiti ufficiali che non si sa bene cosa abbia vinto che è un personaggio molto fumoso e che personalmente non mi piacciono tanto i suoi film sono roba anni 70 con queste coreografie un po' così un po' crude ma non ho niente contro Bruce Lee in sé faceva il suo anche se mi raccontano le storie che sto qua ha inventato il metodo supremo puoi vedere che i professionisti non lo usano allora mi permette di puntualizzarlo ma ho tolto il video non voglio polemiche io non mi sono mai occupato di Jeet Kune Do io ho fatto Muay Thai e Brazilian Jiu Jitsu ci sono già fin troppi insegnanti di Jeet Kune Do che si professano eredi tecnici del metodo di Bruce Lee che a me non interessava neanche in originale figuratevi subrogati ecco poi sul punto poi sui film sui film di Bruce Lee ognuno avrà il suo gusto personale il mio film di arti marziali preferito è Aung Bak con Fanon Jiram detto Tony Ja per me Aung Bak è il film di arti marziali di arti marziali più bello mai fatto nella storia del cinema ad alcuni magari farà schifo non piacerà per me Aung Bak è un film strepitoso i combattimenti sono veramente virili con il clinch le gomitate le ginocchiate i colpi in salto il primo scontro in assoluto è quello che mi ha più impressionato un combattimento che dura un secondo una ginocchiata circolare obliqua alta in viso di incontro in risposta a un diretto destro Aung Bak è il film più bello di arti marziali come hai visto ce l'ho ancora in dvd è uscito nel 2004 mi pare ed è un capolavoro assoluto alcune riprese hanno troppi alcune riprese hanno troppi replay però sono dettagli il film di per sé è bellissimo poi chiaramente la trama che sia questa grande elaborazione ragazzi devo lasciarvi direi che un'ora è anche troppo mi hanno detto che le live su youtube devono durare poco basta rispondo giusto così alle ultime domande la forza con le pinze spero che non sia la robaccia di Brooks Kubik un altro catenaccio ormai dimenticato per fortuna spero ho dimenticato allora Alfonso Amato non posso fare live di tre giorni se no faccio il pellegrinaggio su youtube tre ore di live non penso che sia accettabile grazie a te mister cast old school cosa ne penso è neanche ero nato ragazzi grazie Giuseppe Crisci grazie John Pollitt grazie a tutti i ragazzi Marco Pt out grazie a tutti grazie a tutti